Tutto fa vivere in tutta la città, noi abbiamo riportato questa tradizione in centro storico perché è giusto che sia qua, perché è qua e che è nata e devo dire che tra l'altro la grande partecipazione che noi vediamo qui, tutto il pubblico presente, ma poi devo ringraziare anche coloro che hanno permesso perché dietro questo c'è una grande organizzazione, quindi coloro che amano questo mezzo, quindi la bicicletta, coloro che la vivono tutti i giorni e coloro che quindi ci permettono attraverso anche i valori dello sport di veicolarlo e quindi noi non possiamo che essere felici e orgogliosi di ospitare anche tanta gente fuori che è qui presente, quindi un bravo a chi è sul territorio, a chi ci permette di andare avanti e a chi continuerà quindi questa tradizione. Grazie Sindaco, allora io voglio...